Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Siamo a tutti gli effetti nel cuore di una tellurica e sconvolgente crisi di governo. Tale crisi, come ben sapete, è stata innescata dal tosco nichilista Matteo Renzi, il quale ancora una volta, pur avendo il suo partito politico un peso del tutto irrilevante, riesce in ogni caso a rappresentare, come usa dire, lago della bilancia, a tal punto che adesso è riuscito de facto a mettere in crisi il governo stesso e a porre l'Italia tutta in una condizione periclitante sul piano politico. Prevedo che in sostanza si delineino tre possibili scenari, due dei quali possibili nell'attuazione, uno possibile solo nella teoria e, come subito dirò, impossibile nell'attuazione. Il primo scenario è quello che prevede il cosiddetto Conte Ter, il terzo governo Conte. Abbiamo avuto, come sapete, un primo governo Conte con il governo gialloverde, il governo che vedeva in Conte l'avvocato del popolo. Il secondo governo Conte, che ora si sta letteralmente sgretolando, è il governo giallofucsia, quello che ha visto in Conte, con una metamorfosi neo-cafchiana, l'avvocato non più del popolo, bensì dell'opposto dei mercati speculativi apolidi e degli euroinomani di Bruxelles, l'interesse cosmopolitico delle classi dominanti. Ebbene, adesso potrebbe arrivare, dulcis in fundo, il Conte III. Il Conte, ancora una volta, che si confermerebbe avvocato dei mercati speculativi, ma con una squadra variata, con una mutazione interna alla composizione del gruppo al governo. Questa ipotesi è plausibilissima ed è anzi, a giudizio di chi vi sta parlando, quella forse più plausibile. La seconda opzione da non trascurare è quella che prevede un governo tecnico guidato da Mario Draghi. Da tempo del resto si favella di questa opzione, da tempo, come sappiamo, Mario Draghi è appostato, pronto a entrare in campo in Italia e a tutelare, come già da tempo abbiamo sostenuto, non già gli interessi dell'Italia in Europa, bensì gli interessi dell'Europa e della Banca Centrale in Italia. Questa opzione è possibile, intendiamoci, e troverebbe, peraltro, anche la sponda da parte delle cosiddette opposizioni, che in realtà sono opposizioni solo a livello nominale. Se è vero, come è vero, che nella pratica, poi, sono l'altra faccia della medesima aquila liberista, che ha una doppia apertura alare. Apertura ala sinistra giallofucsia e apertura ala destra verde-bluet. Quest'opzione, dicevo, è possibilissima e non deve essere scartata aprioricamente. La terza opzione, che è quella che mai vedremo realizzarsi nei prossimi mesi, riguarderebbe le votazioni, ossia il ritorno del popolo protagonista che sceglie concretamente come risolvere la crisi in corso e a chi consegnare il potere del Paese. Questa opzione, badate, non si concretizzerà affatto a giudizio di chi vi sta parlando, anzi è la più improbabile nell'attuazione. Del resto già la ciurma dei virologi televisivi superstar si adopera per dire che non è il caso di votare, perché appunto vi è l'emergenza epidemiologica e dunque anche le normali procedure democratiche debbono rimanere sospese sine die. Questa opzione, appunto, è la più difficile, perché è quella che prevede la possibilità, sia pure vaga, di mutare gli assetti realmente esistenti. Ed è quindi quella, siatene certi, che più di tutte verrà contrastata unanimemente dalle forze dominanti.